Sembrano rette parallele destinate a non incontrarsi mai governo e FIOM, almeno stando alle parole del segretario nazionale Maurizio Landini, arrivato a Pescara per partecipare all'attivo regionale del suo sindacato. Insomma, impostazioni culturali diametralmente diverse, quelle tra il governo Renzi e il sindacato dei metalmeccanici. Manca solo una settimana, lo sciopero generale e Landini è venuto a Pescara a portare le proposte della FIOM sul lavoro, estensione e non abolizione dell'articolo 18, riforma delle pensioni abbassando l'età pensionabile, incentivi alle riduzioni di orario per combattere i licenziamenti, estensione degli ammortizzatori sociali, lotta alla precarietà, riduzione del numero dei contratti nazionali. Questa idea che rendendo più facili i licenziamenti e facendo pagare un po' meno di tasse alle imprese, di per sé questo faccia ripartire il lavoro e l'occupazione, secondo noi è una bugia pura. Quindi noi abbiamo, mi permetto di dire, un'altra idea di come si esse da questa crisi e quindi noi non stiamo facendo semplicemente si operare le persone, chiedere alle persone di si operare per protestare o per essere oppositive al governo. Il governo sta rifiutando il confronto non solo col sindacato ma anche col Parlamento perché credo sia il governo che stia mettendo più fiducia in assoluto nella storia degli ultimi governi, quindi un atteggiamento di questo genere, chi non vuole confrontarsi e chi non vuole discutere. All'attenzione di Landini la situazione dell'automotive che ha nel polo della Val di Sangro il fiore all'occhiello italiano nel settore dei veicoli commerciali. Per Landini e gli imprenditori che delocalizzano e non investono in Italia, leggi Fiat, non vanno garantiti gli incentivi pubblici. Io trovo sbagliato andare, come è stato fatto, a una riduzione generalizzata delle tasse a tutte le imprese a prescindere da quello che succede. Fare politica industriale vuol dire avere una logica selettiva, secondo me i soldi pubblici e gli aiuti debbano essere dati a quelle imprese che tengono qui le produzioni, che non delocalizzano, che non chiudono, che non licenziano. Darlo in modo generalizzato secondo me vuol dire spendere mali soldi e soprattutto vuol dire non favorire quelli che invece vogliono seriamente fare. Questo tipo di attività e questo tipo di mestiere. Una battuta il segretario della FIOM l'ha spesa anche sulla questione petrolizzazione, sul problema energia. Bisogna affrontare il tema con un approccio realistico e pragmatico, ha dichiarato. La dico in modo molto secco, è come pensare che siccome un'acciaieria inquina la chiudo e se devo trattare o raffinare il petrolio che crea ambiente e lo chiudo. Una cosa così secondo me non ci porta a nessuna parte perché siccome di questo materia c'è comunque bisogno, non risolviamo il nostro problema se eventualmente queste produzioni vengono fatte in qualche altra parte del mondo inquinando e noi non ci poniamo il problema di provare fino in fondo a fare cose che siano ambientalmente sostenibili. Credo che ogni caso vada valutato a sé per quello che concretamente si realizza, ma avendo credo la consapevolezza che è necessario che anche l'Italia abbia una politica in questo senso precisa e non lasciata semplicemente al caso.